Ciao a tutti ragazzi qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi le differenze del solito non voglio fare una challenge ma voglio raccontarvi una storia Ho visto che molta gente online era solita giocare facendo fondamentalmente sotto uno storytelling Cioè parlando di una storia E quindi mi sono detto perché non raccontare qualche evento della mia scuola o della mia carriera scolastica Dato che ce ne sono stati diversi molto divertenti Quindi ragazzi se questo tipo di format vi piace lasciate un like E nei commenti accetterò anche le vostre storie in modo da leggerle Però mi raccomando solo storie vere Intanto io vi lascio il video Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo Poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Proviamo io sto registrando ragazzi questo video è live Ok? Quindi ci sono i ragazzi del sito viola che mi stanno guardando Se anche voi volete aggiungervi alle mie live ragazzi come mai portiamo ogni sera Basta che andate in descrizione nella sezione live streaming Stasera saremo in live Ma a parte questo allora proviamo a raccontare La primissima storia di questo format Allora stavo facendo l'ora di disegno Punto perché non voglio in alcun modo che si possa Iniziamo bene Ma comunque allora io vorrei provare a narrarvi ragazzi Della prima storia di oggi Che è una storia scolastica Cioè accaduta fondamentalmente a scuola Poi col tempo ragazzi Parleremo anche di altri argomenti Allora calmi tutti quindi Un attimo solo che mi sto curando Allora la prima storia ragazzi inizia così È l'ora di arte Ok? L'ora di arte bella fresca E io stavo facendo non lo so una cosa tipo di disegno La teoria delle ombre Non lo so cose strane di disegno che non ho mai capito Boh senza fare nomi di professori Cose perché quelli non ci interessano Io praticamente che mi ero detto Vabbè questo ora ma faccio tranquilla Tanto il professore spiegava però Io alla fine studiavo a casa quindi non avevo tanti problemi Sai di fatto che il professore fa Luca vieni alla lavagna Faccio io mannaggia la miseria A te pareva Voglio fare la giornata tranquilla No Luca viene alla lavagna Va bene E tu tranquillo non hai interrogazione né niente Mi devi aiutare a spiegare una cosa Facci Vabbè Ok Nessun problema Mamma mia con questo combat Spara pallini Spara pallini Grazie Dicevo Vabbè Vediamo che vuole Allora doveva spiegare questa teoria delle ombre Allora ragazzi semplicemente senza cercare di spiegarla a voi La teoria delle ombre è come si disegnano le ombre Ok con figure tridimensionali Detto proprio in maniera stupida senza dare definizioni Quindi il professore è tutto simpatico Dice disegniamo un paio di figure tridimensionali In quadra Cioè un cubo Una sfera Ste cose qua Quindi raga Vabbè Io comincio a disegnare Faccio un paio di figure Allora Lui dopo aver spiegato le basi proprio Dove avermi fatto fa Quattro linee in croce Fa Vabbè Allora Luca Fammi un po' l'esercitazione Come se la doveste fare voi a casa Io confusissimo Vabbè Vabbè Fra ok Cioè io comunque raga È vero che arte la odiavo Però comunque la studiavo Andavo bene Cioè non è che facevo schifo Io a scuola sono sempre andato una bomba Quindi io ti ho detto Vabbè proviamo Facciamo se esercitazione come la vuole lui Prova a farla Ma io non ci capisco ragazzi Completamente nulla Perché Dice che una linea non va bene Una linea l'ho fatta male Una linea di qua Di là Comunque io sto incazzato nero Perché A un certo punto comincio a fare Senti Se non lo so fare Se non l'hai spiegato bene È normale che non mi riesce E quello comunque comincia a assistarsi Fa Ma scusa ma che significa Che io non l'ho spiegato bene Che Che è così Che è colì Se tu non lo sai fare Stai sbagliando Cioè Non l'hai capito tu Mi sto casando un po' E ragazzi Ma queste saranno storie divertenti Oh Così ne ho Ne ho decine Allora Lei comincia a fare Scusami Luca Allora ragiona Ragiona vicino a me Io già stavo ragionando Prendi una figura tridimensionale Prendi tre momenti della giornata diversi Io lo faccio Con Anche le coordinate Non coordinate polare Però lo faccio anche con Nord Sud Ovest Est Per cercare di comprendere meglio Il tutto addirittura E lui fa No 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 Bocciato Bocciato No No Ma che stai dicendo Bocciato Faccio io Che 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 c'è Cos'è che ora non va Perché bocciato Cosa vuoi Cioè io stavo cominciando a provare a cazzare male Lui fa Scusa dove sorge il sole Io Ma Un attimo Ho detto aspetta Ho sbagliato Dove sorge il sole Allora gli ho detto No Il sole sorge a est E tramonta Dove Cioè ponente e levante Anzi io rispondo Per essere precisi Io rispondo Sorge a levante E tramonta a ponente Perché nel dubbio Ho detto io non sbaglio Però Avevo comunque fatto bene Il disegnino alla lavagna Lui fa Cosa Lui è incazzato nero Mi fa Ma io ti Boccio Cosa stai dicendo Io Sorry Sorry I didn't quite catch that bro Cioè Inquietato ragazzi Ho detto ma che cazzo Ma non so manco più dove sorge il sole Frate E niente ragazzi Sta di fatto che Effettivamente Cioè il Professore si era imbrogliato Tanto è vero che poi anche i miei amici Ci hanno fatto Guarda fra Guarda che tu te trovi Cioè Ha ragione lui Oh ragazzi Un tizio nel cespuglio Alla fine La cosa Vabbè non è che si conclude Diciamo che Comincia a prendere proprio una brutta piega Perché pure i miei compagni Cominciano ad entrare nella discussione E ci abbiamo capito che te stai a cazzare Perché lo vuoi mettere in difficoltà A caso Cioè Ora basta E infatti pure io ragazzi Che sono sempre stato un tipo che Brava scuola Educato Cioè veramente io C'avevo una media della madonna C'avevo tipo la media del nove e mezzo A un certo punto ci ho fatto Senti frate Ma ma che vuoi Ma cosa vuoi dalla mia esistenza Comunque me ne torno a posto Senza il suo permesso Gli comincio a fare Sì ma se io ti sto interrogando Ma è un'interrogazione Capito All'improvviso era diventata un'interrogazione Quella cosa che mi stava a fare Tu sorella Con 37 di vita E faccio Senti guarda Fai quello che vuoi Ma mettermi una nota Mettimi una nota Comunque Alla fine La cosa si calma I miei compagni Dicono Vabbè dai bro Vabbè Vabbè Lucas Tutti calmi Tutti calmi La situazione si calma E dovevi dirgli Che la terra era piatta Raga questa Se quella di prima era grave Ripeto Questa lo è ancora di più Sempre con lo stesso professore Quindi Quindi Questo evento Ripeto È più grave di quello di prima Era una mattina Io avevo studiato Fino alla sera prima Biologia ragazzi Un sacco Veramente Un mal di testa Che voi non potete capire Fino a tarda notte Non mi ricordo che stavo a studiare Ragazzi Credo Tipo Era sempre il quarto anno Quindi il corpo umano Mi ero tipo arretrato Quattro sistemi di biologia Non ho mai recuperato Così tante Pagine In una giornata Questo me lo ricordo benissimo Comunque Sta di fatto che Io studio Fino a tarda notte Tutto Tutto scontento E il giorno dopo Alla prima ora Tenevo l'interrogazione Madonna Cosa si sta combinando L'ho eliminato Ma sto laggando Ecco perché è morto dopo Vabbè Il giorno dopo Tenevo alla prima ora L'interrogazione di biologia Cioè scusatemi Alla seconda ora L'interrogazione di biologia Voglio che faccio Dico vicino a mia madre Guarda ma Ieri ho studiato fino a tardi Mi sono svegliato Omo alle 8 Con ma di testa Che è incredibile Fammi un piacere Accompagnami alla seconda ora Così mi faccio un'ora di sonno in più Va bene Allora io vado a dormire E mi sveglio verso Verso le 9 Ok Pronto per andare Cioè no alle 9 Alle 9 meno 10 Pronto per stare poi alle 9 a scuola Vabbè comunque Bello 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 Dai 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 E vabbè E vabbè Non può avere più di 80 di vita Non può avere più di 80 di vita Mattilei Perché sto in mezzo È una povola di Non mi far dire cosa Perché sto in mezzo Vabbè comunque Questo con 37 di vita Eliminato col piccone Mammanaccio Arrivo alle 9 A scuola Mi preparo Tutto contento E Tutto contento Baradone Non sono mai contento Nella vita Però vado a scuola Entro Sa la prof di italiano Faccio Prof Scusate ma Non ci deve passare Biologia Fa la prof Guarda Biologia oggi è assente Faccio io Ma Ma io avevo l'interrogazione E allora io un po' Incazzato Lascio Vabbè Vabbè Sediamoci Facciamo sì Sta giornata di scuola Inutile Mi siedo Il mio compagno De banco Mi fa Bro Comunque guarda che Hai preso una nota Faccio io Ma che vuoi pure tu Fra oggi Perché Fa no perché Il professore Di arte Veramente Ha messo una nota A tutte le persone Che sono entrate In seconda ora E io tipo Non ho capito Cosa ha fatto il professore Di arte Non mi è ben chiaro Perché tipo Quella mattina Eravamo assenti In 10 Alla prima ora Poi alla seconda ora Sono entrate tipo 4 o 5 persone Tra cui anche io Ma io stamattina Stavo a dormire Quale è il problema Come mi hanno fatto A mettere una nota Se ero assente E lui ha fatto No te l'ha messa Sono andato a Pia Registro Ho fatto L'alunno Mele Eccetera 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 Tutti gli altri Hanno preso Cioè hanno una nota Quel che stava scritto Perché sono assente Excuse me bro Comunque Comunque Allora La situazione come procede A questo punto Cioè esco dalla classe Sbatto la porta E vado a chiamare mia madre Faccio mamma Senti un attimo Vieni un attimo Vieni un attimo Cioè io sono andato fuori La scuola La sono andato a chiamare Facendo mamma E entra in classe E fa ma cosa sta succedendo Faccio una mamma Qui mi hanno messo una nota Guarda perché Cioè fondamentalmente Ero assente Quindi facciamo una cosa Io ora prendo E tu mi raccompagni a casa La mia professoressa Di italiano Fa Guarda effettivamente Si può fare Ha detto io non te la metto Proprio alla presenza Ti dico che sei assente E vattene a casa Io faccio sì però E guardate perché Mi fa un po' male la testa Sono venuto qua Solo per biologia Ma appeso Ho piato pure la nota Perché non ce ne so Tanto vale che me ne torna a casa E quindi la storia si risolve con me Che torna a casa Con un mal di testa incredibile Tutto scazzato Dopo questa scenata Fatta davanti alla professoressa Di sbattere la porta Urlare per la scuola E questo è quanto Questo è quanto ragazzi Questa è la storia È la storia Che del professore di arte Se in futuro me ne verranno altre Ve lo dirò Però io ripeto ragazzi Fortunatamente In realtà questo professore Poi l'ho cambiato Verso Diciamo il quinto anno E ne ho avuto un altro Molto molto più tranquillo Molto più gentile Che mi ha molto anche aiutato All'esame Quindi Meno male Ok ragazzi Quindi il primo video di questo format È andato Mi raccomando Qui a schermo Vedete come al solito Altri video che potete visualizzare Del mio solito format Se succede qualcosa Il video finisce Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima